Buongiorno a tutti da SPCALL. Mi avete chiesto spesso di fare una prova in campo in ambiente aperto dei miei richiami. Questo è tipico richiamo SPCALL, legno trattato anti acqua antigraffio, monolamella e richiamo che non si blocca mai neanche con l'umidità. Ora voglio farvi sentire un po' di tonalità, un po' di cantate in questo ambiente aperto e mi direte voi come lo trovate. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. SPCALL richiami artigianali made in Italy.